Salve, come potete vedere sono completamente sfatto, sono lo Yotobi estivo, con la caravatta tutta sfasciata, la camicia mezza slabbrata, un po' spettinato. Questo video perché? Beh, perché sono contento di dirvi che la prima stagione dell'H.O. si è conclusa. Ebbene, se io prendo la pausa estiva, o per meglio dire la pausa di agosto, come fine di una stagione di video. E quest'anno è finita la prima stagione dell'H.O. e io non posso far altro che ringraziare tutte le persone che hanno seguito gli episodi. Questa mia prima prova di una sorta di late show che è partita lentamente, poi ha ingranato perché sono riuscito ad acchiappare il mio tipo di umorismo con questo tipo di format e sono riuscito a fare dei video decenti. E io di questo voglio parlarvi in questo micro video estivo, dell'evoluzione che avrà da settembre il late show e di come ho impostato io lo studio. Perché voi non avete idea delle condizioni in cui registro. Dunque, come ho detto, portare il late show nel mio canale era un azzardo, era una prova per vedere se fossi riuscito, in qualche modo, a portare quel tipo di format, modificandolo ovviamente per YouTube, su YouTube. E il risultato si può riassumere in più o meno. Nel senso che i video sono venuti fuori, gli argomenti c'erano e tecnicamente è discreto. Ma la sensazione che dà è che non è un vero e proprio late show. Perché i late show sono una scatola in cui ci buttano dentro di tutto. Le interviste, le canzoni, gli sketch comici, cortometraggi, monologhi, c'è di tutto. Invece i miei video erano soltanto prendere un argomento, sviscerarlo il più possibile in modo più o meno comico e via. E questo non dà spazio a nient'altro. Per esempio, se io voglio fare un piccolissimo corto di un minuto su uno scaldabagno, per fare un esempio, non posso metterlo da nessuna parte se sto parlando di Bruce Lee. Ma con le idee che ho in mente, che adesso vi dico, da metà settembre possiamo trasformare il late show e farci il cazzo che ci pare, il cazzo che ci pare, il cazzo che ci pare, piscio sull'arcuri e cago sulla marale. Quello che avevo in mente era, la prima stagione di questo show non era proprio impostata come uno show, nel senso, siccome io chiamavo i miei video the late show trattino titolo, sembrava che il late show fosse soltanto una piccola parentesi nel mio canale, fosse un format del mio canale lo show. In realtà io vorrei proprio trasformare il canale in un late show, in modo da poterci mettere dentro tutte le cose che io avrei voluto continuare a fare. Per esempio, i pausa, i cortissimi, perché no recensioni di film, magari un po' più corte, un po' più piccole, in modo da poterne fare di più. Anche le interviste io volevo metterle nello show, ma non sapevo dove, proprio per lo stesso problema di prima. Perché se io avessi voluto intervistare Michelle Obama, per esempio, se io faccio il video del late show sulla realtà virtuale, non è che cozza benissimo, insomma. E oggi, mentre lavavo il mio corpo ludo sotto la doccia, mi è venuta l'illuminazione. Siccome io voglio portare dell'intrattenimento a mo' di late show, non devo chiamare i video del late show, devo chiamare il canale del late show con Yotobi, in modo che già l'impostazione esterna sia un late show, e poi i video dentro facciano solo parte di quella impostazione. Mi congratulo con me stesso. Ovviamente tenendo il nome Yotobi, perché comunque io così sono su YouTube, e quindi chiamarlo the late show con Yotobi. E sapete cosa vuol dire questo? Che finalmente potrò cambiare il mio cazzo di avatar. Sono letteralmente dieci anni che ce l'ho. Io ho una foto dell'avatar in cui sono minorenne. E finalmente possiamo impostare il canale, come cazzo ci pare. Pausa, cortometraggi, recensioni, perché no, mi piacerebbe portarvi degli eventi, che possa essere un video da 20 minuti dove parlo di Gomorra, per esempio, oppure uno sketch di un minuto e mezzo su un argomento specifico. E siccome me l'avete chiesto in tantissimi, ora vi faccio vedere qual è la mia postazione di lavoro. E quindi farò una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Room tour! E siccome io non l'ho mai fatto, dovrò un po' ispirarmi a chi è esperto in questo settore. Benvenuti nel mio room tour. Mi raccomando, lasciate un pollicione perché se no muoio di fame. Dunque, questa è la postazione in cui di solito giro il late. Questo è lo sfondo. Sono due pannelli di legno, che nei video sembrano grigi, ma in realtà sono marrone scuro, perché l'illuminazione li rende grigi. E quello invece è un trittico su tela di Torino. Che ho preso su un sito che stampa queste cose qui, che ho pagato un bel po', ma la resa è incredibile. E pensare che c'era gente che credeva fosse un green screen. È uno skyline di Torino con dietro le montagne. E alcuni di voi mi hanno detto che le montagne, in realtà da lontano, sembrano un enorme tsunami che sta per distruggere tutto. E la cosa buffa è che è vero, sembrano tsunami. Grazie per gli incubi. Quello che io vedo davanti è questo. Tralasciando quel quadro che non so, qui abbiamo due faretti con ombrello, che sono la mia illuminazione standard, pagati sia con gli ombrelli, sia con il treppiede, sia con le lampadine, entrambi 60 euro. È incredibile come così economiche non mi siano ancora scoppiate in faccia e che io sia ancora in vita. Poi abbiamo un treppiede cinese pagato 10 euro. E poi, il dramma. Questo casino di prese, di cavi, di portatili è dovuto alla telecamera che sto usando. Siccome la sto usando e non riesco a farvela vedere, è una Sony Alpha 5100. Che ottima se devi fare una cosa del genere e non hai nessun operatore o nessun cameraman che ti aiuti con il fuoco manuale. Questa piccola perla ha un fuoco automatico ottimo. Ma ha un piccolissimo problema. Dopo 10 minuti di registrazione simultanea, si surriscalda e si spegne. Praticamente, per poter registrare più di 10 minuti, perché più o meno una registrazione a me prende un'oretta, 50 minuti, un'ora, devo attaccare la Sony al treppiede. Poi mi è venuto in idea. Ho preso una scheda di acquisizione da console, praticamente quella che usano i game player per registrare da console, appunto, collegare con tutti questi cavi al portatile e alla telecamera il tutto, aprire il programma di registrazione e registrare direttamente dal computer quello che la telecamera vede. E questa è una delle due cose che mi ha salvato la vita per lo show. L'altra è l'audio. Dove ho girato, ho girato, in casa, nei vecchi studi, nei vecchi uffici, l'audio, che rimbomba, con soffitti altissimi, riverberi vari, porca puttana tua mamma, mi perseguitava e non riuscivo a metterla a posto, sia con microfoni esterni, con microfoni interni della telecamera... Mi si è spenta la telecamera. Dicevo, l'audio è sempre stato il mio più grande nemico e qui ho voluto prenderlo d'anticipo. Ho comprato tipo 300.000 pannelli fonoassorbenti e ci ho riempito tutte le pareti possibili, compreso sotto la scala, là negli angoli, non so se si vede un po' scuro, il soffitto del soppalco, ma purtroppo non potendo bucare qui, ho messo gli adesivi che c'erano insieme, ma purtroppo non reggono. Devo ringraziare mio padre che mi ha aiutato a mettere tutto questo insieme e abbiamo anche messo questa tenda molto pesante per assorbire il suono. Dall'altra parte invece c'è l'entrata dell'ufficio che dà direttamente sulle scale, su proprio il piano terra delle scale, quindi chi entra e esce lo sento come non mai. Grazie signora del secondo piano che ha quel bambino di merda che prima o poi se lo becco, gli entro in scivolata e gli spezzo una tibia. E dall'altra parte, come avete visto prima, c'è lo sfondo che però voi non avete visto quanto è grande. È piccolissimo! Se io zoomo leggermente più indietro, si vede tutto quello che c'è intorno. Però vedi, zoomando un pochino, it's magic. Ma nonostante tutti i pannelli audio, non era abbastanza. Del video di prima vi faccio sentire un pezzo senza il microfono che ho comprato, ma soltanto con il microfono della telecamera. Come potete vedere, sono completamente sfatto, non ho la cravatta tutta sfasciata, mezzo spettinato. Mmh, senti il profumo di professionalità nell'aria di Yotobi. Come fare, come fare, come fare? La seconda volta che mi è stata salvata la vita è grazie a Shy di Breaking Italy. Perché mentre piangevo, non sapendo che cazzo fare della mia vita con l'audio, ho guardato lui e ho detto, cavolo, lui ha la mia stessa, praticamente, impostazione come sfondo. E siamo quasi alla stessa distanza di telecamera. Cosa cazzo usa per farsi sentire così bene? Oh mio Dio, i microfoni a clip! O in termini professionali, i lavalier. Adesso è attaccato male perché di solito lo attacco alla giacca che non ho, però questa è quella, è la seconda cosa che mi ha salvato la vita. E questo è tutto, io sono sempre qui dentro da solo a girare i video con i pannelli fonoassorbenti che mi tengono compagnia e Torino che sta per essere colpito da uno tsunami. E il deodorante vaniglia gelsomino. E niente, per oggi era tutto. Mi raccomando, se volete vedere il prossimo episodio lasciate 650.000 like, perché se non li raggiungiamo non devo trovarmi un lavoro vero, io non so scrivere il curriculum, quindi per favore, non lasciatemi morire di fame in mezzo alla strada, lasciate un... Passate una buona estate e noi ci rivediamo a metà settembre con la seconda stagione dello show.